Presidente Emiliano, sono padre Dario Bossi, missionario combogliano in Brasile. Mi rivolgo a lei come Presidente perché abbiamo qualcosa in comune. Le polveri che vengono dal Parco Minerale dell'Ilva sono minerali di ferro che sono estratti a PTA, nel Maragnau, nella regione dove mi trovo in Brasile, in Amazzonia. Abbiamo dei problemi serissimi legati alla estrazione di questo minerale da parte della multinazionale Valle che trasporta e vende questo minerale anche all'Ilva di Taranto. I problemi da noi sono problemi legati all'impatto della minerazione contro popolazioni indigene, afrodiscendenti, contro popolazioni agricole e urbane. Faccio un appello anche a lei perché possiamo dire basta a questo sistema di sfruttamento che sta pesando troppo sulla vita, sulla salute e sulla libertà della nostra gente. Interrompere questo schema di morte sarebbe la soluzione di vita per la nostra gente e anche per quella di Taranto e della Puglia intera.